Ciao ciao mascherine, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che sospende l'obbligo di utilizzare le mascherine all'aperto e la notizia viene accolta con sollievo anche in Veneto. Dal lunedì non c'è più l'obbligo della mascherina. Il ministro ha firmato l'ordinanza all'esterno, quindi mascherina negli spazi esterni non è più obbligatoria. Ovvio che ci siano delle eccezioni vista la situazione. Sono in coda, quando ando a comprare il pane c'è tanta gente, mi metto la mascherina. All'ufficio postale mi metto la mascherina, al banco della frutta e della verdura dove c'è il self service mi metto la mascherina, in un autobus, in un mezzo di trasporto mi metto la mascherina. Allora, che cosa ne dobbiamo fare di queste mascherine? Io direi che la dobbiamo utilizzare col principio dell'ombrello. Se piove o piovigina, usi l'ombrello, quando c'è il sole non lo usi. Allora la mascherina, il sole è lo spazio attorno a te, la pioggia è gente vicino a te. Quando c'è gente vicino a te, mettiti la mascherina. E sul futuro, tanto immediato quanto a medio termine, il governatore ha le idee molto chiare. Se qualcuno ci chiedesse, ma le mascherine resteranno a vita? No. Perché comunque di pandemia ce ne sono passate tante nella storia. Tutti ricordiamo quella del 1919, la spagnola, ricordiamo le foto con le mascherine, ma noi non abbiamo ricordi di aver visto i nostri nonni con le mascherine.